ciao in questo video vedremo come installare il sensore di umidità del suolo xnod soil pro di xparm oltre a quello che è contenuto nella confezione avrai bisogno di un tronchesino fascette per fissare i cavi un palo in metallo di almeno due metri con diametro compreso fra i 20 di 40 millimetri una trivella con un diametro di 10 15 centimetri ed almeno 50 centimetri di lunghezza un martello in gomma una paletta un tubo corrugato a protezione dei cavi in alternativa puoi utilizzare dei pali già presenti in campo per esempio in un filare come mostrato in questo video tieni presente che l'xnod dovrà essere più alto della cultura nel suo momento di massima crescita e degli oggetti ingombranti nelle vicinanze per cui se stai per installarlo in un campo con una cultura alta come il mais è consigliabile utilizzare un palo da almeno 4 o 5 metri di altezza il dispositivo viene fornito già assemblato per cui non sono necessari montaggi di parti esterne per prima cosa faremo la registrazione del dispositivo sulla piattaforma xfarm leggi il codice del dispositivo e apri l'applicazione xfarm una volta entrato nell'account della tua azienda agricola vai nella sezione sensori clicca sul bottone più usa la mappa per selezionare il punto in cui installerai il tuo sensore inserisci un nome che lo identifichi scrivi il codice letto sotto la scatola bianca e seleziona il tipo di sensore acquistato una volta fatto clicca su crea sensore per aggiungerlo al tuo account se l'xnod non è dotato di scheda sim cioè non è una versione cellular avrà bisogno di una stazione meteo xsense o di un gateway xsense nelle vicinanze per inviare i dati avvicinati quindi ad uno di questi dispositivi per continuare con una prova di connessione la copertura del segnale dipenderà dalla versione della stazione meteo e dalla presenza di ostacoli variando da 1 a 3 chilometri circa a questo punto prova ad accendere l'xnod premendo il pulsante esterno della scatola bianca controllando che il led al centro del pulsante lampeggi velocemente se questo accade conferma che la batteria è carica e il dispositivo è pronto per essere installato in campo dirigiti in campo e trova il punto migliore per installare il dispositivo avendo cura che non ci siano ostacoli nelle vicinanze che potrebbero interferire con il segnale fissa il dispositivo xnod su un palo di supporto con le due fascette lunghe avendo cura di orientare il pannello solare verso sud in modo che l'efficienza energetica sia massima a questo punto svolgi il cavo e fissalo con delle fascette al palo scava una buca per il sensore ad almeno 20 30 centimetri di distanza dal palo la profondità della buca dipende dalla cultura e dal numero di sensori che saranno piazzati fai riferimento alle istruzioni comprese nella confezione per scegliere la profondità corretta per il tuo pezzamento ora scava un piccolo solco tra la buca del sensore e la base del palo dove poi verrà terrato il cavo continua avvolgendo la parte interrata del cavetto con il corrugato aperto in dotazione inserisci il sensore infilzandolo nella parete verticale della buca alla profondità indicata per la coltura da monitorare ricopri quindi la buca con la paletta senza compattare eccessivamente il terreno ora interra la parte inferiore del cavo che arriva alla base del palo in modo da proteggerlo dai roditori a questo punto inserisci il tubo corrugato di grosso diametro sul palo in modo da proteggere i cavi esposti fissa il resto del cavo con fascette avendo cura di tenerle sempre ad almeno un metro di altezza dal suolo per evitare danni da parte di animali selvatici grazie per aver visto questo tutorial iscriviti al canale youtube di xfarm per continuare a rimanere aggiornato con nuovi video e visita www.xfarm.g per maggiori informazioni buon lavoro da xfarm